Convegno sulla ZES, zona economica speciale, una pluralità di opportunità, sviluppo, porto, aeroporto, imprese ed occupazione. Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, una pluralità di possibilità, come detto, ma anche una azione coesa tra i vari enti e le realtà rappresentative del territorio. Nel concreto, quali benefici l'area ionica può trarre? Proviamo a disegnare uno sviluppo nuovo per la provincia, per la verità questo lo stiamo facendo anche per le altre province, attraverso la ZES adriatica. La ZES Ionica è invece Taranto, Francavilla Fontana e la Regione Basilicata insieme in un progetto strategico per il cambiamento e per uno sviluppo ecosostenibile fondato sulla ricerca, sull'innovazione e sulla internazionalizzazione. Ovviamente vogliamo attrarre nuove imprese, possibilmente imprese internazionali, che vorranno venire ad investire qui a Taranto, intorno al porto, ma non soltanto al porto, intorno all'aeroporto di Grottaglia, intorno al centro intermodale di Francavilla Fontana, nelle aree PIP dei comuni di San Giorgio, Carosino, Montegliasi, Motto, Lamassafra, Statte, Taranto, nella retroportualità di Taranto, Manduria, Grottaglie, 11 comuni della provincia. Ma noi non ci fermiamo perché abbiamo altri 88 ettari a disposizione, entro fine mese faremo un bando per assegnarli ad altri comuni che vorranno partecipare, in una strategia che vogliamo, è il senso del dibattito di oggi, che è l'inizio di un percorso che abbiamo avviato sul territorio, con la condivisione, innanzitutto con le associazioni di categoria, Confindustria, Confcommercio, Confesacenti, Cia, Coldiretti, Confagricoltura e tutto il mondo delle associazioni di categoria, delle associazioni datoriali, con i sindacati, perché la tutela dei lavoratori è importantissima, e con gli enti locali, la presenza oggi di tantissimi sindaci, del Presidente della provincia, dell'assessore del Comune di Taranto, testimonia di una voglia di stare insieme rispetto ad uno strumento innovativo che, se ben utilizzato, può portare nuove opportunità di sviluppo, non soltanto pensando alle grandi imprese, che per noi resta obiettivo primario, ma anche per dare un'opportunità di crescita alle piccole e medie imprese locali, e ce ne stanno tantissime, alcune anche virtuose, in settori dove sono davvero all'avanguardia. Queste zone economiche speciali mettono nelle condizioni non soltanto di avere una sburocratizzazione, quindi tempi ceneri per l'autorizzazione al nuovo investimento, ma anche fondamentalmente una fiscalità di vantaggio, con vantaggi importanti dal punto di vista delle tasse, e quindi la possibilità di incentivi veri. Ci sono delle aree perimetrate in questi comuni, anche le aziende che fanno parte di questa perimetrazione, se faranno nuovi investimenti, a partire dall'entrata in vigore della ZES, quindi a partire dal mese di luglio-agosto del 2019, avranno la possibilità di una defiscalizzazione abbastanza importante, di un investimento fino a un massimo di 50 milioni di euro. Quindi per noi questo è un tema importante, lo vogliamo condividere con la città, con la provincia, perché vogliamo che questo sia uno strumento percepito da tutti come la voglia di cambiamento della nostra provincia con un futuro ecosostenibile.